Tentano di rubare materiale edile e fili di rame da un impianto di produzione di calcestruzzo in contrada Sambucci del gruppo Missuto a Gela. Scoperti aggrediscono i titolari e fugono a bordo di un'auto. Bloccati dopo un inseguimento da carabinieri del reparto territoriale, sono stati arrestati. E quanto accaduto sabato scorso, le manette sono scattate ai polsi dei fratelli Alferi, storicamente legati alla consorteria mafiosa di Peppu Hierro. Si tratta di Gaetano Davide Alferi, 39 anni, Roberto e Giuseppe Alferi, di 30 e 35 anni. Arrestato anche Alessandro Frasca, di 31 anni. Sono stati i propri fratelli Missuto ad accorgersi della presenza dei ladri all'interno della propria struttura e a chiamare i militari dell'arma. Tra i titolari della cava e due dei malfattori è scaturita una lite cruenta. I proprietari dell'impresa, nella collutazione, hanno riportato una grave contusione alla spalla ed al ginocchio ed una frattura alla mano destra con una prognosi di 30 giorni. Subito dopo la lite, i due ladri sono saliti a bordo di una Fiat Punto dove all'interno c'erano i fratelli di uno dei due. La macchina è stata intercettata e bloccata dai carabinieri su una strada di campagna. L'accusa per i quattro è diventata rapina impropria. Al termine delle formalità di rito, Ghetano Davide Alferi è stato tradotto nel carcere di contrada abbalate. Arresti domiciliari per gli altri tre. E la polizia di Niscemi ha arrestato per tentato furto aggravato Francesco Rocconisi, di 48 anni. L'uomo è stato sorpreso nel tentativo di commettere un raid furtivo ai danni di un esercizio commerciale, subito dopo l'orario di chiusura. Aveva già mandato in frantumi la vetrata del negozio. È stato un agente di polizia fuori servizio ad accorgersi di quanto stava accadendo e a chiamare i colleghi. Nisi ha tentato una fuga ma è stato bloccato ed arrestato. Adesso si trova ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.